A Nangrigento al caos innanzi alla casa natale di Pirandello si è svolta una cerimonia commemorativa in occasione dell'ottantasettesimo anniversario della morte intitolata Le parole del Natale, il servizio di Maria Grazia Castellana. Con una sobria e partecipata manifestazione si è avviata la due giorni dedicata a Luigi Pirandello nell'ottantasettesimo anniversario della morte. Le parole del Natale tra poesie natalizie e parole di Pirandello, in un mix di tradizioni e di emozioni pirandelliane, appunto. E sono stati poeti, attori e cultori ad animare il Natale di Pirandello proprio dinanzi alla stele commemorativa accanto alla sempre emozionante Casa Natale Museo. Paolo Cilona del Cepasa e poi Mario Gazziano per il Pirandello Stable Festival e Dino Barone per il Parco Letterario Pirandello hanno introdotto i diversi momenti poetici tra Natale e Pirandello, proposti dai sempre impegnati Giuseppina Mira, Tania Cotugno, Enzo Argento, Vera Di Francesco, Maria Assunta Maglio, Stella Camiglieri, Liliana Arrigo, Giovanni Licata, con poesie e recitazione di grande spessore lirico. Ed è stato l'attore e regista Giuseppe Gramaglia a suggellare pirandellianamente l'intenso Happening, recitando Torna Gesù, la coinvolgente e appassionante poesia giovanile proprio di Pirandello, scritta nel 1895 e pubblicata dalla rivista nazionale Critica. Insomma, una prima iniziativa ricca di aneliti culturali pirandelliani e di sentimenti natalizi.